laudentur jesus et maria benvenuti o bentornati a tutti per questa nuova sicuramente splendida puntata non lo dico per quello che dirò ma per quello che sentiremmo dire dico splendida puntata di questo ciclo di catechesi antropologico dobbiamo chiamarlo così questo di fatto è una sorta di piccolo corso divulgativo di antropologia teologica come si chiama in teologia giunto adesso alla parte conclusiva è molto molto importante cioè il cosiddetto trattato de grazia la volta scorsa abbiamo visto sant'agostino il primo dei giganti che hanno contribuito a formare la dottrina cattolica della grazia oggi vedremo l'insuperabile e comunque certamente insuperato santo ammaso d'aquino che come sempre con una chiarezza straordinaria pur trattando di temi oltremodo difficili complessi ci farà comprendere molto molto bene che cos'è la grazia di dio come essa coopera con il libero arbitrio in che senso possiamo e dobbiamo meritare e meritare la vita eterna e chi non la merita la vita eterna non ci va in paradiso quindi sicuramente oggi affronteremo e ci metteremo in ascolto del dottore angelico che su questo argomento come in generale tutta quanta la parte morale della somma teologie raggiunge vette veramente straordinarie sacramentaria grazia e morale veramente sant'ommaso tocca dei vertici non indifferenti quindi direi subito di passare all'ascolto all'ascolto commentato del grande dottore angelico che insieme al dottor grazie che appunto sant'agostino ha concorso a formare la sana dottrina cattolica poi cristallizzata fondamentalmente anche se non solo nei decreti antiprotestanti quindi fondamentalmente antiruterani del concilio di trento questa è una tematica attenzione straordinariamente importante amici è perché qui ci giochiamo veramente il nostro essere cattolici ma non solo il nostro essere cattolici ci giochiamo proprio la possibilità di raggiungere la salvezza perché attenzione quindi è una tematica molto molto importante allora cominciamo a vedere un po il discorso in sant'ommaso d'aquino allora innanzitutto sant'ommaso dedica la trattazione della grazia di dio al cosiddetto trattato dei homine che si trova in quattro questioni della prima seconda sapete che la somma teologia si distingue in tre parti di cui la seconda è assoluto divisa in due la prima la prima seconda e la seconda seconda e la terza parte poi la parte conclusiva c'è un supplemento perché la somma teologia è rimasta incompiuta e per cui le ultime questioni tra cui quelle scatologiche sono state aggiunte diciamo così per completare la somma teologia sulla base di scritti precedenti dell'angelico allora il trattato dei homine è a sua volta suddistinto in appunto in base alle alle questioni che sono quattro in quattro punti 1 la necessità della grazia 2 l'essenza della grazia 3 la divisione della grazia e 4 la causa della grazia e quindi evidentemente anche la tematica connessa ai meriti io dal momento che sant'ommaso di una fatto una sintesi ovviamente divulgativo comprensibile spero che sia chiara lui lo è quindi spero di esserlo altrettanto io allora per quello che concerne la necessità della grazia la necessità della grazia di dio è necessaria sotto almeno quattro punti di vista attenzione 1 la grazia è indispensabile non semplicemente per compiere il bene per esempio il bene umano il bene naturale si può compiere anche senza la grazia ma il bene meritorio per meditare la vita eterna quindi è indispensabile per compiere il bene meritorio della vita eterna cioè un'opera buona compiuta senza la grazia non merita la vita eterna ma una ricompensa temporale secondo la grazia di dio è indispensabile per potersi convertire la conversione è anzitutto una grazia abbiamo già visto che alla conversione si coopera con libero arbitrio ma senza la cosiddetta si chiama così mozione preveniente di dio cioè ci deve essere un'azione positiva di dio che volge la tua volontà verso la conversione volge non significa forza eh quindi la fa volgere verso questa grande grazia gli dà la possibilità concreta con un fiat quindi con un atto di volontà di cambiare vita questo significa attenzione uno se non ci fosse la grazia di dio noi il paradiso ce lo possiamo dimenticare perché non potremmo compiere alcuna opera meritoria secondo se non ci fosse la grazia di dio più che dimenticare il paradiso saremmo tutti condannati all'inferno perché la grazia è indispensabile per convertirsi cioè dobbiamo capire bene una cosa chi commette il peccato è schiavo del peccato cioè schiavo di satana se satana ti mette le mani addosso e le mani addosso te le mette non se sei posseduto ma se fai un peccato mortale ed è per questo che si va all'inferno tu da solo da quelle griffie non ti libererai cioè quello che accade con lo stare in grazia quindi lo stare in stato di peccato mortale è la stessa cosa che che vince per i demoni e per i dannati dell'inferno uguale perché i dannati non possono uscire dall'inferno provassero a vedere se riescono a liberarsi dalle griffie di satana prego si accomodino per capire un pochino questo punto voi immaginate avete visto i santi padre pio il santo curato d'Arts quando il demonio appariva a loro e li gonfiava di botte potevano forse farci qualcosa che per caso ci si può mettere a fare a botte col diavolo sperando di dargliela a lui impossibile cioè la forza che c'ha satana in confronto a noi di che cosa vogliamo parlare quindi senza la grazia non si merita la vita eterna e non ti puoi convertire perché stai sotto la k stai sotto schiavitù cioè chi commette il peccato è schiavo del peccato l'ha detto domini Dio l'ha detto liberare mediante la morte colui che della morte ha il potere cioè dalla schiavitù di colui che della morte ha il potere cioè il diavolo sta scritta una lettera degli ebrei quando una cosa sta scritta sta scritta terzo terzo per rimuovere le conseguenze del peccato originale in primis la ribellione della volontà a Dio con la conseguente pena eterna cioè solo chi è in grazia ha una volontà che non è come dire naturalmente sarebbe meglio dire innaturalmente perché naturalmente se uno considera come ci ha creati Dio prescindendo dal peccato originale la nostra volontà naturalmente è orientata al bene ma dopo il peccato originale la nostra volontà è orientata al male è ribelle è intrinsecamente ribelle perché questo status di ribellione della volontà a Dio con la conseguente annessa pena eterna cessi ci vuole la grazia quarto la grazia di Dio è indispensabile per perseverare nel bene ho quasi finito di correggere il settimo libro che pubblicherò se Dio vuole ovviamente che parla proprio di questi temi cioè è un libro dedicato alle sette virtù cristiane quindi innanzitutto ha una piccola sintesi di quello che stiamo vedendo anche in questo ciclo di catechesi quindi sull'uomo sui suoi atti sulla sua libertà e poi una carrellata delle virtù e proprio poco fa quindi non molto prima di iniziare questa catechesi stavo correggendo abbiamo quasi finito una sezione sono dovuto andare a leggere la citazione del consiglio di Trento il cosiddetto canone tridentino che vedremo nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio e che non si può perseverare fino alla fine senza una particolare grazia di Dio quindi ricapitoliamo la grazia di Dio è necessaria per meritare la vita eterna convertirsi rimuovere la condizione di ribelli eravamo per natura ribelli e meritevoli di rea scrive San Paolo e per perseverare nel bene ok questa è la questio 109 andiamo alla questio 110 l'essenza della grazia insomma che cos'è sta grazia di Dio cos'è la grazia di Dio allora San Tommaso logicamente spiega con tutta una serie di cose che noi ormai dovremmo già conoscere se abbiamo seguito questo ciclo di catechesi allora c'è anzitutto una predestinazione cos'è la predestinazione in teologia il piano eterno di Dio per salvare l'uomo San Paolo scrive in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarsi al suo cospetto santi immacolati nell'amore abbiamo già parlato della predestinazione quindi non ripeto le cose che abbiamo detto a suo tempo quindi primo step predestinazione piano eterno di Dio per salvare l'uomo come potremmo salvare l'uomo chiaro che in Dio queste operazioni sono tutte quante simultanea ma noi dobbiamo seguirle logicamente quindi per salvare l'uomo devo eseguirlo questo piano come si fa? attraverso la grazia e la giustificazione la giustificazione anche l'abbiamo già vista cioè passaggio dal peccato alla grazia che è una fase temporanea e poi infusione appunto della grazia e che cos'è la grazia santificante così si chiama è un dono permanente attribuito e scusate abituale conferito da Dio al giustificato è una qualità o forma quindi San Tommaso specifica che inerisce sapete che bello stabilmente all'essenza dell'anima rende capaci di raggiungere i beni sopranaturali con suavità e prontezza e comunica all'anima la natura divina ci ha resi partecipi della sua natura divina si legge nel lettere di San Paolo ecco cos'è la grazia ripeto quindi caratteristiche è un dono permanente abituale una qualità che permette di agire in modo sopranaturale e quindi raggiungere i fini sopranaturali inerente all'essenza stessa dell'anima e che ci comunica la natura divina Dio abita in noi come in un tempio per mezzo della grazia si chiama tecnicamente in teologia l'effetto della grazia io non ho usato parole paroloni non voglio usare paroloni troppo grossi perché questo ripeto è un circo di catechesi divulgativo ma tecnicamente se uno vuole sentire il parolone si chiama inabitazione trinitaria cioè le tre persone della santissima trinità abitano dentro di una casa nostra non semplicemente perché siamo sue creature no 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 ma realmente per mezzo della grazia questi o 111 la divisione della grazia anche qui attenzione che qui è molto importante per capire bene alcune cose allora numero uno la grazia di cui abbiamo appena parlato si chiama tecnicamente grazia santificante l'ho già detto questo nome in latino si chiama gratum facens cioè tradotto che fa grato cioè che rende grato chi ha Dio ovviamente chi la riceve e che cosa fa è quella concessa da Dio all'uomo per ricongiungerlo a sé mediante la santificazione quindi per mezzo della grazia che appunto si chiama santificante che diventiamo santi e quindi possiamo adempiere la prima petizione del padre nostro sia santificato il tuo nome che non è altro che la traduzione in preghiera dell'antica esortazione già nei libri del pentateuco siate santi perché io il signore sono santo ma santi senza la grazia non ci si può diventare c'è una seconda grazia cosiddetta gratis data cioè data gratuitamente questa non è una cosa che serve all'uomo per la santificazione propria ma sono si chiamano appunto grazie e gratistate quei carismi di cui oggi tutti quanti vanno in cerchio in maniera spasmodica e frenetica che sono concessi all'uomo non perché diventi santo lui ma perché cooperi a far tornare altri uomini a Dio cioè santificare altri uomini queste grazie sono numerate nel nuovo testamento nella loro dimensione straordinaria quelle che c'erano nella comunità cristiana primitiva il dono della profezia il dono delle lingue di saperle interpretare eccetera 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 il dono dei miracoli poi la distinzione tra grazia operante e grazia cooperante la grazia operante è quella che proviene direttamente ed esclusivamente da Dio ed ha come effetto la giustificazione del peccatore questa grazia deve semplicemente essere raccolta e basta invece c'è la grazia cooperante ossia quella con cui Dio aiuta la volontà nostra a compiere gli atti di virtù ed ha come effetto il merito poi ne parleremo importantissimo Dio aiuta la volontà non si sostituisce alla volontà non fa le cose senza di te non le fa al posto tuo non le fa per te non ti forza a farle un aiuto perché perché se lo facesse al posto tuo ti forzasse non esisterebbe il merito il merito è sempre qualcosa di imputabile alla nostra volontà e alla nostra libertà siamo in quaresima fare il digiuno al di là di quello di quel poco che adesso è prescritta dalla legge della chiesa che è molto molto mitigata è un'opera meritoria potresti mangiare senza fare peccato perché mangiare non è peccato è peccato vivere per mangiare non mangiare per vivere non mangi per amore di Dio ti obbliga qualcuno? no ti ha tenuto l'ispirazione della grazia? sicuramente sì tu gli hai detto bene ma non è semplicemente un bene nel senso che accolgo la grazia poi lo devi fare al digiuno il digiuno lo fai tu non è che lo fa qualcuno al posto tuo con questo esempio spero di riuscire a far capire bene questo punto fondamentale ecco poi c'è la grazia preveniente quella per esempio con cui Dio giustifica il peccatore nessuno vedremo può meritare la giustificazione quindi se non ti previene la grazia di Dio festa finita chiusi i giochi non c'è niente da fare siamo spacciati e poi c'è la grazia susseguente cioè quella che deriva da effetti antecedenti per esempio poi lo vedremo più avanti la grazia come dire il surplus di grazia che il Signore ti dà ogni volta che tu compie un'opera buona lo vedremo ancora a chi ha sarà dato dice Gesù nel Vangelo se io faccio un digiuno quindi assecondando una mozione della grazia cooperante che succede fatto il digiuno il Signore mi concederà un aumento di grazia perché la grazia pur essendo una disposizione stabile una qualità una forma che ne risce all'essenza dell'anima non è una cosa fissa immobile fluttua la grazia può crescere la grazia può diminuire e la grazia può perdersi vi prego figlioli mi cari queste cose cerchiamo di averle chiare in testa perché dopo queste cose ci servono per campare allora ripeto la grazia può crescere può diminuire e può perdersi come si perde la grazia questo c'è un'insegnata al catechismo no? si perde col peccato mortale si perde la grazia di Dio completamente con un peccato mortale si ritorna schiavi di Satana come diminuisce la grazia di Dio con il peccato veniale con l'imperfezione la grazia non diminuisce però non cresce come aumenta con ogni atto di virtù con la preghiera con la risizione dei sacramenti e con ogni opera buona proprio detto in termini che è più facile non si può quindi queste cose dobbiamo saperle cioè vabbè ma mi dico una bugia ma tanto che gli fa è una bugia bianca è piccola piccola per la bugia bianca perderai un po' di grazia non andrai in stato di dannazione ma perdi la grazia un po' la perdi ti diminuisce infine la grazia abituale ossia quella che dimora stabilmente nella persona la grazia santificante per esempio è grazia abituale e poi c'è la grazia attuale attuale deriva da atto qui ci sono chiaramente le categorie di abitus e di atto che in San Tommaso sono importantissime queste cose le spiego nel libro di cui ho parlato prima che sta per iniziare il processo di pubblicazione cartacea spero presto mi manca l'ultimo capitolo veramente un lavorone perché mi sta facendo veramente tribolare questa questa revisione perché è abbastanza impegnativa vabbè comunque la grazia attuale è una mozione con cui Dio muove transitoriamente l'intelletto e la volontà perché compia cose a lui gradite per esempio tutta quanta la delicatissima tematica della possibilità della salvezza delle persone che sono fuori del corpo visibile della chiesa e si trovano nella impossibilità soggettiva o morale di appartenervi perché nessuno gli annuncia del Vangelo perché non lo conoscono o cose del genere come sarà giudicato sulla base del bene compiuto seguendo i dettami della propria coscienza ma se il Signore deve come dire ispirare a un pagano il compimento appunto di un'opera buona che gli varrà come possibilità di raggiungere la salvezza poi raggiungere la salvezza quando io qui ho una mia opinione personale perché è vero che ci sono persone che appartengono al corpo visibile della chiesa che se ne andranno all'inferno e di tutte le categorie santa veronica giuliani e lo ripeto sempre scrive nei suoi diari che vedeva all'inferno anche zucchetti rossi addirittura quindi non solo neri che sono quelli che un tempo portavano i preti e viola che sono quelli dei vescovi ma pure rossi e speriamo che non ci sia altro così è possibile in linea non solo teorica ma anche reale la salvezza di chi senza colpa però non appartiene alla chiesa ecco però che significa la possibilità di salvezza quando ci andrà in paradiso un pagano è chiaro che queste cose risa soltanto nostro signore mia opinione personale è che un pagano arriverà in paradiso nello stesso momento in cui ci arriva un bambino non battezzato a cui non fosse poi stato dato almeno il battesimo suppletivo di desiderio vicario potremmo chiamarlo così dato da uno dei genitori io suggerisco sempre di fare una messa per un bambino non nato per mandarlo subito in paradiso quando andranno in paradiso i pagani i bambini non battezzati al giudizio universale mia opinione personale questa non prima e formulo questa opinione perché perché con questo in sede di giudizio universale si comprenderà l'importanza dell'appartenenza alla chiesa cioè non è la stessa cosa aver ricevuto la grazia oppure un bambino non battezzato non ha ricevuto la grazia santificante non ha ricevuto la remissione del peccato originale quindi chi non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio ha detto Gesù nel Vangelo un pagano è lo stesso non è battezzato quindi di per sé non può compiere opere meritorie per il cielo tuttavia perché Dio è solamente giusto se sto poraccio la grazia non ce l'ha non perché l'ha rifiutata non ha creduto viene dato l'annuncio del Vangelo chi crederà sarà battezzato sarà salvo di Gesù chi non crederà sarà condannato quindi lì non c'è appello ma se non ho avuto colpa ci arriverai ma ci arriverai in maniera diversa da come ci arriva un battezzato che diventa santo questo ovviamente ci spinga ad una grandissima gratitudine come diciamo ogni giorno nelle preghiere del mattino e della sera spero ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano è una grazia immensa essere cristiano che merito abbiamo noi di essere nati da genitori cattolici che ci hanno portato al fonte battesimale che merito abbiamo è un povero disgraziato che è nato in Cina nelle regioni sperdute della della Cina ok ne so dove sta ancora in Corea del Nord io sapete che noi siamo un mistero anche a noi stessi no io so io adesso la mia anima sta qui unita a questo corpo sono figlio dei miei genitori ma io non ho scelto né di esserci né di esserci qui né di nascere dove sono nato sono tutti quanti regali inutile chiedersi perché a me e non un altro no però una cosa interiorizzare queste cose ci consente di vivere in una gratitudine operosa Maria Santissima nel canto del Magnificat ha espresso proprio tutto il suo spirito noi immaginiamo di stare proprio a fare una follia no negli scritti di Maria Valtorta questo si vede cioè Maria che ringrazia dice ma tra le tante tante anime che hai creato la mia solo la mia esente dal peccato originale e a me è stata data la sorte di essere la madre di Dio si proprio a te questi sono i grandi misteri dell'Altissimo però che devono renderci appunto grandemente grati ecco perché gratum faciens si chiama la grazia santificante che era più importante di tutti la questione 112 facile facile chi è la causa della grazia di Dio chi è la causa della grazia è una sorta di tautologia no la causa della grazia di Dio è Dio ovviamente perché se la grazia è di Dio la causa di essa è Dio e la grazia spiega San Tommaso suscita anche il primo moto del libero arbitrio con cui l'uomo si prepara all'infusione della della grazia il primo moto lo suscita San Paolo scrive Dio è lui che suscita in noi il volere e l'operare quindi lo suscita lo suscita non vuol dire che lo che lo che lo coarta o lo obbliga o lo costringe non lo suscita ecco e infine i meriti la grazia è la radice del merito quindi si chiamano meriti perché perché vi coopera il nostro libero arbitrio San Tommaso spiega che ci sono due tipi di meriti il merito cosiddetto decondigno che è appunto quello cui coopera il libero arbitrio e il merito deconguo quindi quello che è attribuibile to cure alla persona noi non andiamo in paradiso per il merito deconguo perché noi non meritiamo in senso strettissimo perché per militare in senso strettissimo vuol dire quell'opera è tua e solo tua e tu c'è tutto quanto il sacrosanto diritto alla ricompensa in senso assoluto ora Dio vuole che noi meritiamo ma è un merito condizionato anzi come dire causato dalla grazia quindi che è la radice del merito in tre sensi e per tre motivi spiega San Tommaso primo perché solo le azioni di una persona in grazia quindi di un giustificato meritano la vita eterna secondo perché se non abbiamo la grazia di Dio l'abbiamo già visto non possiamo compiere il bene meritorio della vita eterna terzo perché il fine a cui tendono i meriti a che cosa servono i meriti lo diciamo nell'atto di speranza mio Dio sperato grazie per meritarla con le buone opere la vita eterna spero per meritarla con le buone opere quindi il fine a cui i meriti tendono che la vita eterna è al di là della portata dell'uomo noi possiamo agire per fini che sono alla nostra portata posso studiare e se studio mi laureo è un fine alla portata dell'uomo faccio un lavoro e lo porto a compimento fino alla portata dell'uomo devo mangiare cucino fino alla portata dell'uomo andare in paradiso non è alla portata dell'uomo non lo è si può meritare anzi non solo si può ma si deve meritare la vita eterna quindi non si può ma si deve invece non si può meritare la giustificazione siamo giustificati gratuitamente dice San Paolo tuttavia ci si può predisporre a ricevere la grazia della giustificazione come prima di essere giustificati agendo secondo il dettame della coscienza che ci indirizzi verso il bene e ci distoglie dal male ora la grazia non soltanto ci fa meritare la gloria nell'altra vita ma anche il progressivo aumento di grazia in questa vita a chi ha sarà dato che la grazia aumenti se servisse altro non dovrebbe servire altro è già attestato dal saluto angelico ave piena di grazia piena piena la Madonna stava sempre al top al centro noi sicuramente no i grandi santi chi sono gente che ha avuto un altissimo gravo di grazia ma perché perché ha fatto un sacco di azioni atte a farla crescere è necessario andare a messa tutti i giorni necessario per salvarsi no è necessario andare a messa la domenica è comandata ah ma se vuoi diventare santo sicuramente sì perché per diventare santo ci vuole tanta grazia non è sufficiente la grazia di una messa domenica o delle preghiere del mattino e della sera o prima o dopo i pasti che è il minimo sindacale e con questo ho sintetizzato in maniera spero chiara e schematica il pensiero di sant'ommaso sulla grazia attenzione che ci sono poi due grandi affermazioni dell'aquinate prima che è fondamentale la grazia presuppone la natura e la porta a compimento grazia naturam supponit ac perficit in latino principio molto molto importante molto importante esempio faccio qui il consiglio degli spot pubblicitari per gli altri cicli di catechesi pubblicità se io a causa di alcune problematiche interne che mi porto dietro ferite nodi irrisolti eccetera eccetera o un'umanità profondamente ferita imperfetta alcune cose certamente saranno parate la grazia santificante non supprisce queste cose se io per esempio mi porto dietro una frustrazione per cui c'ho bisogno continuo di gratificazioni anche nel bene cioè di essere gratificato dalle persone che se ne accorgano che mi dicano mi diano i riconoscimenti se io agisco in questo modo guardatevi da compiere la vostra azione davanti agli uomini perché altrimenti non avrete ricompensa verso il padre vostro cioè l'agire da scrive fariseo cioè quello che Gesù rimprovera agli scrive fariseo è proprio questo di agire davanti agli uomini e se agire davanti agli uomini non ricevi la ricompensa verso il padre oh ma se questa cosa non dipende dal fatto che io ho una volontà maliziosa quindi ma per esempio da appunto da datare che mi porto dietro ho delle ferite talmente grandi sono totalmente umiliato e mortificato che sta cosa è talmente radicata ancestrale che faccio così sta cosa non è sanata dalla grazia santificante devi fare un percorso di guarigione specifico devi usare i mezzi per uscire da questo da questo gap spero di essermi spiegato per approfondire chi vuole può scegliere tra due cicli di catechesi dato che abbiamo fatto il consiglio per gli acquisti facciamolo bene se no chi sente sto video poi non adesso mi vedo un attimo un minuto magari lo mando in sovrimpressione stare attenti che in molti video che mando su youtube quando riesco ci metto delle schede che sono generalmente delle playlist che compaiono durante il video che sono playlist dove affronto dei cicli di catechesi sistematiche magari ogni tanto qualche cliccata per dargli un'occhiata perché ci sono tante cose che ho messo in giro quindi adesso qui a sto minuto 41 adesso mi devo ricordare cerco di ricordarmi di metterci sto suggerimento sono due catechesi due cicli chi sono io per poter amare e dal non senso alla vita di cielo ci sono dei passaggi che approfondiscono appunto questa condizione se una persona è per esempio ha dei meccanismi di difesa molto profondi per esempio la sindrome dello struzzo quindi la rifrattarietà ad affrontare i problemi e mettere la testa sotto la sabbia diciamo vado a messa tutti i giorni così rimani cioè devi prendere atto di questo problema e cominciare a porre degli atti differenti come dell'agere contro degli atti di esistenza che dici no basta ho sto stress psicologico e l'affronto la grazia presuppone la natura e la porta al compiimento seconda cosa nessuno può sapere con certezza di essere in grazia ma solo inferirlo ad alcuni indizi questa cosa sarà ripresa e proprio dogmatizzata dal concilio di Trento adesso lo vedremo subito il famoso canone tridentino e allora andiamo subito ad approfondire il concilio di Trento prima di arrivare alle conclusioni di questa sezione e quindi forse anche di questo ciclo di catechesi questa sera allora facciamo un po' di ripasso a suo tempo abbiamo visto che Lutero diceva che l'uomo in realtà non viene giustificato ma la grazia è un fatto meramente esteriore quindi la giustizia ci viene imputata cioè veniamo ricoperti dei meriti di Cristo rimanendo peccatori quindi di fatto questa grazia è un fatto puramente esteriore che non opera nessuna trasformazione dell'uomo che rimane peccatore fate attenzione che quando si comincia e in certi ambienti ecclesiali attenzione questa cosa è una moda diffusa a ripetere come un mantra io sono peccatore sono peccatore sono peccatore sono peccatore attenzione che non si nasconda dietro una visione luterana dell'uomo della grazia della giustificazione noi non pensiamo così noi cattolici infatti per Lutero l'unica grazia per Lutero non esiste la grazia santificante ma esiste la grazia attuale sappiamo questa distinzione che è quella con cui Dio dichiara giusto il peccatore è peccatore ma lo dichiaro giusto perché gli imputo i meriti del mio figlio che ha meritato e pagato per lui chiusa la discussione il consiglio di Dio ha detto no la grazia non è un fatto meramente esteriore ma ha un carattere ontologico inerisce all'essenza dell'anima dice Sant'Ommaso ontologico vuol dire che comporta una trasformazione profonda dell'essere la grazia risana guarisce e trasforma interiormente l'uomo anche qui Gesù medico dei corpi e delle anime i percorsi di guarigione ho detto le cose che ho detto prima cosa sono ecco ecco perché i sostegni umani anche quelli psicologici o farmacologici sono necessari in certi casi mi sono dovuto piegare anch'io anche se sono sempre stato scettico anche se ci si deve affidare non in buone mani ma in eccellenti mani testando bene però non sono mai completamente risolutori perché sono o palliativi o preparatori cioè una buona introspezione psicologica può magari aiutarti a tirar fuori dei nodi quindi a farti prendere coscienza di quali sono i bug che ti porti dietro e poi però sì con le operazioni umane qualche cosa si fa ma le grandi guarigioni sono tutte le anticristoterapie devi andare davanti al santissimo sacramento devi cominciare a imparare a usare bene l'eucaristia la comunione l'adorazione soprattutto per andare da Gesù e ostentargli le piaghe e dire eccomi Gesù mi porto dietro queste cose queste paure sti limiti sti meccanismi perversi guariscimi però questa è un'operazione che si fa appunto in forza della grazia che possiede in sé questo carattere ma non è un carattere che opera in automatico leviamoci dalla testa le concezioni magico-automatiche della salvezza sono operazioni divine dipendono da lui ma non si fanno senza la nostra cooperazione ordinariamente il concilio di Trento oppone alla cosiddetta unica grazia attuale luterana che è quella con cui Dio dichiaraggioso il peccatore il concetto di grazia abituale appunto fa il copia e incolla da Santo Maso che inerisce intrinsecamente termini chiavi e non estrinsecamente all'anima rendendola gradita a Dio allora nel Denzinger noi ci possiamo dilettare un po' leggendo qualcosa troviamo nel concilio di Trento la dottrina della grazia sintetizzata in questi modi primo necessità della grazia preveniente ormai sappiamo questo linguaggio l'uomo decaduto non può liberarsi da solo dal peccato questo mettiamocelo bene in testa e prima di fare un peccato mortale cerchiamo di pensarci 500 volte perché da quel momento in poi tu sei spacciato non ne uscirai cioè tu entri in stato di dannazione con un atto volontario ma non ne esci con un atto volontario perché se non ti arriva la grazia preveniente tu lì rimani quindi c'è questa discrasia il peccato dipende da te il ritorno in grazia non dipende solo da te secondo Cristo era causa meritoria della grazia perché la grazia ce l'ha meritata il nostro Signore è l'unico caso in cui i meriti suoi si comunicano a noi mi spiego che significa allora così si capisce anche un pochino di consacrazione totus tuus se io faccio un'opera buona un digiuno abbiamo già visto gli effetti propri del merito sono l'aumento della grazia e l'acquisto della gloria io questa cosa non la posso cedere a una persona che conosco dico allora io faccio un digiuno Signore però l'aumento di grazia che merita questo digiuno voglio che vada a quel mio confratello non si può faccio questo digiuno però l'aumento di gloria che ne deriva in paradiso vada a questo mio confratello non si può questi si chiamano i meriti di accrescimento di grazia e i meriti di gloria ce ne sono altri due però perché quel digiuno espia i peccati che ho commesso e quel digiuno può avere una forza impetratoria quindi io posso usare il digiuno per impetrare una grazia particolare dal Signore questi li posso cedere e sono quelli che si cedono a Maria Santissima con la consacrazione totus tuus quindi il valore spiatorio e come si chiama satisfatorio e impetratorio del merito si può comunicare ma il nostro Signore Gesù Cristo unico caso al mondo in quanto era il capostipite della nuova creazione quindi lui ha agito non come singola persona umana perché non era una persona umana era una persona divina avente una natura umana quindi lui ha agito come capostipite della nuova creazione e quindi ci ha comunicato anche i suoi meriti di grazia perché altrimenti la grazia non avremmo potuto ricevere e di gloria perché ci ha aperto la porta del paradiso o tra gli altri spero di essere stato chiaro quindi Cristo è la causa meritoria della grazia in questa maniera così sublime terzo il concetto di grazia coadiuvante l'uomo può e deve collaborare alla propria salvezza col libero arbitrio e in maniera complessa mi permetto di leggere qualcosa a riguardo non leggo tutto perché altrimenti diventa oltre che troppo lungo anche un po' troppo tecnico un paio di canoni del decreto sulla giustificazione se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo mosso e stimolato da Dio mosso e stimolato non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio che lo muove e lo prepara a ottenere la grazia della giustificazione quindi la grazia della giustificazione deve essere consentita ci deve essere un assenso e che se egli lo vuole non può rifiutare il consenso ma come cosa inanimata resta assolutamente inerte e gioca un ruolo del tutto passivo sia anatema capite leviamocene proprio dalla testa queste cose qui in seguito se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell'uomo dopo il peccato di Adamo è perduto o estinto come diceva Lutero che schisse un'opera che si chiama il deservo arbitrio si capisce subito o che è solo apparente anzi nome senza contenuto anzi perfino introdotto nella chiesa da satana questo dicevano Lutero e i suoi amici sia anatema proseguo il libero arbitrio a che serve la grazia di Dio due effetti la remissione dei peccati e la santificazione dell'uomo qual è l'effetto principale della grazia di Dio rende l'uomo realmente giusto non imputandogli semplicemente estrinsecamente la giustizia di Cristo infine la grazia aumenta in proporzione ai meriti più opere meritori fai più aumenta la grazia e più aumenta la gloria meno ne fai meno aumenta la grazia e meno aumenta la gloria conclusione del capitolo sulla grazia e quindi anche di questo ciclo di catechesi allora la grazia è l'attuazione del mistero eterno di Dio partecipare la sua natura divina Dio ci ha creati per questo per comunicare fuori di sé a creature simili a lui quindi capaci di riceverlo la sua stessa vita se fosse se fosse andato tutto come Dio aveva deciso ci sarebbe stato l'Eden il paradiso terrestre e il paradiso celeste le cose sono un pochino complicate con il peccato quindi l'Eden non c'è più e speriamo che torni con l'ospicato avvento del regno della divina volontà ma al momento non c'è però il paradiso celeste possiamo raggiungerlo attraverso la grazia l'uomo è stato creato in grazia la grazia fu conferita alle origini l'abbiamo visto e non soltanto la grazia santificante ma pure i doni preternaturali e soprannaturali tutto perso ma è stata ridonata all'uomo e al mondo solo la grazia santificante i doni preternaturali ce li siamo giocati per sempre da Cristo la grazia è offerta a tutti gli uomini Gesù è morto per tutti ma viene trasmessa attraverso canali particolari anzitutto la meditazione della chiesa e poi i sacramenti la grazia è un evento ontologico quindi che coinvolge l'essere della persona trasforma l'essere dell'uomo diventa realmente figlio di Dio simile a Dio a quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio i quali non da carne né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati figlio di Dio simile a Dio la grazia si passa in espressione libera la libertà nel senso e questo è un punto fondamentale che trasforma il libero arbitrio quindi la capacità di scegliere tra bene e male in libertà la capacità di scegliere uno fra i tanti beni possibili noi siamo veramente liberi quando la nostra libertà assomiglia a quella divina Dio non usa mai la libertà per fare il male quindi il libero arbitrio che ha la possibilità di scegliere tra il bene e il male è una condizione reale ma è superato attraverso la grazia dall'uomo che smette di peccare volontariamente e lo può fare e esercita la sua libertà per scegliere soltanto appunto uno fra i tanti beni possibili come fa Dio la grazia al suo punto di partenza nella fede perché la giustificazione parte come ben sappiamo dalla fede ma quello di arrivo nella carità opera per mezzo della carità in cui si esprime ed opera allora amici in un brevissimo overture conclusivo abbiamo visto in questo ciclo di catechesi fondamentalmente soprattutto nella parte seconda quindi nella parte sistematica perché ci ha creato Dio conoscerlo amarlo e servirlo in questa vita goderlo nell'altro no fa parte dei temi scatologici abbiamo visto come siamo stati creati abbiamo visto come sarebbe potuto essere la nostra vita abbiamo visto gli effetti del peccato originale che cos'è la giustificazione che cos'è la predestinazione che cos'è la grazia tutto questo è offerto alla nostra attenzione semplicemente per un motivo molto molto semplice perché la nostra anima sia la nostra intelligenza prima di tutto sia ben formata possiamo comprendere e possiamo fare uso di queste cose la vita è breve noi abbiamo un tempo limitato in questo mondo per giocarci tutta quanta l'eternità il consiglio ovviamente al termine di questo percorso lontani dal peccato volontario come dalla peste bubonica impegnati nel far crescere la grazia più di ogni altra cosa perché è l'unica cosa davvero importante nella vita più cresciamo in grazia e più cresceremo in gloria più cresceremo in gloria e più aumentare la nostra capacità di godere non soltanto di Dio ma anche di tutte quante le grazie le glorie scusate accidentali quindi ben accidentali che avremo al cospetto della visione beatifica non è poco vale la pena spendere la vita avendo questo obiettivo e scopo assolutamente prioritario e principale laudentur laudentur iesus et maria che Dio vi benedica e la santa vergine vi protegga laudentur